Ma tu sei pazzo che lasci la porta aperta? No, no, lasci la porta aperta Ah, sì, scusa Ma no, ma l'ho chiusa, eh Qual è che l'ho chiusa? Sì, vabbè, è un blocco che vuoi che esca, mei zombie, dai Sì, vabbè, è un blocco che vuoi che esca, mei zombie, dai, vai No, no, let them see, be the good girl, you always have to be You can see all the time free, but don't let them know Well, don't they know, let it go, let it go I can't hold it back anymore, let it go, let it go L'ho fatta, l'ho fatta, adesso muorici Tu è Andrew, unicorn, spero che tu sia contenta Eee, ciao a tutti i lupi lupi e benvenuti in questo nuovo video Questo è il nuovo video della Skyblock in compagnia della qui presente persona Ciao cutie E in questo episodio cosa andremo a fare? La cacca Bene, ok No, allora, per prima cosa abbiamo deciso di fare la bacheca Come avete visto nello scorso video che era sul canale Che fosse, che, vabbè, è italiano No, che era, è giusto, è giusto Che era sul canale di Cutie E abbiamo messo il commento di Laila Skywalker e Gianni Adesso il prossimo commento Perché mi fa sempre ridere? Salutiamo Gianni, non so perché mi fa ridere Allora, il prossimo commento sono i miei da... Sono miei, sono due miei Adesso prendo i cartelli Dove c... ok, sono qui i cartelli Allora, Cutie Segretaria Schiava Vai, due cartelli Oh, no, no Ehi, vedi bello, vedi Allora Vai qui Vai A scrivere Allora Aspettate un attimo che devo... Oddio, non riesco a fare questo salto Mi metto... Ma... Sei una persona orribile Allora Un attimo che prendo internet Allora, il primo è costruite Allora, il primo commento... No, lo cantavano i cartelli Salvami 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 No Salvi i cartelli Allora Primo commento è di Seidow Taki 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 Zan Vabbè Come si scrive Ciao Un nome più semplice, no, eh Sì, veramente, anche tu potevi sceglierlo Così si scrive Come Gianni Che ne so Gianni è proprio... Taki Ah, ci segue dal Giappone, bravo Ci segue dal Giappone, bravo Che poi sei un personaggio di unanime Sei giapponese? Ma, cioè, se lo chiedi a San Gennaro, ovviamente Ok, scusa, amico, non volevo Quindi è un costruite È un costruite ed è Fare una piattaforma 9x9 9x9 di diamante No, ma tu sei fuori Amico, amico Piattaforma 9x9 di diamante Chiudi Il tuo video Ha 81 visualizzazioni Cosa? Ha 81 visual Ti giuro, sono... Iniziamo bene Minecraft Allora, cosa è successo? Cosa è successo? Sei a 81 visite 253 253 253 253 visite Iscritti Iscritti, chiudi 253 Ma come cacchio hai fatto? Era finto? No, no È sul serio È vero Cutie Cutie Ma che cazzo? Ma si sono drogati Ma come? Mi viene gli altri Io vieno subito Ma sì Festestrema Raga Festestrema Hashtag Festestrema Tutti in chat adesso Allora, se non lo mettete Guarda, vi giuro che vengo a casa vostra E vi tiro di quelle mazzate Che mamma mia non... Ecco Cioè, festestrema Sto sentendo male Allora, ci prendiamo 5 minuti per calmarci Un attimo Pausa Respiro Tranquilli tutti Sto giovendo Cioè, mi sono arrivati A sette Che stavo a 200 Cioè, 53 persone si sono iscritte contemporaneamente A sette mi ha fatto uscire dal server Quanta eccitazione Il server solo Chiudi, ma come cavolo hai fatto? Dici il segreto Ma non è possibile Qual è? Non è possibile 53 persone 53 persone In quanto tempo? In un minuto? Ma mio Dio, ma sul serio? C'ho scritto, c'ho scritto Sei leftata ancora Stai laggando troppo per l'entusiasmo Chiudi, calmati No, io mi sento male Aspetta, mi fa male il cuore Oddio Io mi sto mangiando un polmone Grazie Grazie Quasi Cagganna Mi sembra che questo video è andato alla malora Ma chi se ne? Mi si caricano i server Ma io ho 60 Io vado tipo a 30 fps Adesso sono tornato a 60 fps Ma chi se ne? No ragazzi Scusate per questo video Mi si caricano i server Scusate per questo video Ma io fa poco Devo andare a mangiare E poi devo Cioè anche Chiudi Che ha raggiunto Così a caso Cioè è una cosa incredibile Non è possibile Allora dai Diccelo Visto che sei in video Come ti senti? Eh Fias Veramente Euforico Cioè Euforico Ricordiamocelo tutti Chiudi dice La sua vera identità del sesso Così Così Ma guarda che l'hai già superato eh Amin hai 240 Oh mio dio Hai superato me Tipo in 10 secondi neanche Basta basta Dobbiamo continuare la serie Dai Dichiera il secondo commento Angry Unicorns Ok calmi tutti Angry Unicorns Che ci chiedeva di costruire la rupe d'era Ah Stag ho costruito la rupe d'era E per chi non lo sapesse Io sono l'amante del Realeone Non so come facesse Saperla Devi prendere un obiettivo È questo l'obiettivo Ah Non abbiamo obiettivi Oh Shish Non abbiamo obiettivi Costruite le vostre pixel art Costruite la rupe d'era E non ho altro obiettivo Quindi vabbè Dove costruite per oggi Vabbè sì Per oggi sarà un costruite Bene Quindi Quindi impegnatevi nei commenti Di Del video di Qt A scrivere Costruite No Obiettivi Tutti Ormai sono più della madonna Facciamo 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 Sle Scemo Oltre che Festa estrema Hashtag festa estrema Facciamo Hashtag auguri cutie Hashtag rimanete attivi Per favore Lei sta laggando Come qualsiasi cosa in terra No Non sto laggando No no Ti voglio solamente scattare Tipo da Milano a Roma In meno di 10 secondi Facciamo cose Allora in teoria Noi dovremmo fare Una cosa che Vabbè adesso la dico Volevamo prendere della terra Della grassa Per E facciamolo Ok va bene Però ci servono money Sì vabbè regà Allora l'albero è troppo grande Non ce la farò mai C'è un 4x4 Forse anche 5x5 No no Boh forse È un 3x3 Oh mio dio È un 4x4 di nuovo Ancora Basta alberi Vabbè allora Controllo No sto Oddio Ho fatto tipo Ho represso Un rutto dall'interno Cutie cutie Allora cutie No cutie Cagami Cosa 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 258 Modesti No vabbè E mentre andavo avanti E mentre ho sonato a vedere i tuoi iscritti Uno sei iscritto A caso Dal 257 al 258 No vabbè Mi sento come tu ti fai Che tipo ogni 5 secondi Arriva un iscritto Io credo Ce la puoi fare Nel culo Di Sto cazzo Sto Allora Salutiamo Gano Eterosica In questo momento Allora povero Gano Facciamo tutti un regalo a Gano E doniamoli 5 euro Per comprarsi gli iscritti Pesanti questa è Va la prendere tu gli altri Cutie 260 No 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 Non lo so Non lo so 260 Ma come Ma Vabbè Vabbè Ho capito che la skyblock è figa 261 in live Vabbè Allora vediamo Il video si chiama Recenzia Vabbè Sì Recensiamo Sì Novantaviso Maletta Guardiamo gli iscritti In live Sì vabbè Guardiamo gli iscritti Di chiudi in live Raggiunge i 300 iscritti In live No vabbè Non sei ancora A 300 iscritti Calmate Sei a 261 Torniamo Allora Torniamo al video Per mezzo secondo So che è difficile Tornare al video No Ho un più Un sacco di legna Quindi adesso la vado a scambiare Per No io oggi ho preso Ho già preso i blocchi Allora Prendiamo con 32 32 L'ho comprata 5 blocchi di grass Per far sì che possiamo Fa spawnare mob Ciao chiudi Così almeno possiamo Leggermente fa spawnare Sti cacchio di mob pacifici Però Perché se no Sì Poi ovviamente dobbiamo mettere Per avere il cibo Delle recensioni Adesso faccio partire una live A caso Allora Aspare un attimo Live per vedere A quanti iscritti riesco ad arrivare Così Qua ci sono 21 cosi No no Allora ci servirebbe della Ok sì Mi servono questi Quanta terra posso comprare Con 22 coin Vediamo un pochino Niente Devi averne 32 E che palle Tieni qua c'è della Cobblesson Della Della Dove Tieni nella cesta Oh grazie L'hai fatta per me Sì Ti voglio bene No vabbè ma quella che c'è Devo vedere io Aspetta un attimo Adesso non ci crede Tipo va No adesso si sono fermati Si sono fermati No no Ero tipo Chiudi 90 visual Tipo ma che cazzo Guarda i tuoi scritti 200 C'è Tipo 250 scritti No ma stai scherzando No Ti guardo tipo Cazzo Momenti in cui una fangirl Incontra Justin Bieber Hai preso i blocchi d'erba Sì sì ne ho 5 Però non ho blocchi di terra 5 Non te ne davano 10 No 35 Ma che bastardi Eh sì hanno aumentato i prezzi C'è l'inflazione Chiudi Cioè scusami ma c'è l'inflazione C'è la crisi in Italia Facciamolo più lungo Facciamolo più lungo Chiudi Facciamolo più grosso Che è proprio doppio dendo Porca Me lo potevi anche dire Che mi stavi rompendo i blocchi sotto eh Anche perché è lento così Dovremmo metterne molto di più Ma sì ma faremo Tipo off camera Prenderemo questo qui Ne faremo un altro uguale di là O di fianco Tipo Sì vabbè a caso Da quanto stiamo registrando Aspetta Aspetta Siamo a 26 minuti E abbiamo fatto Quella cosa super lasciosa In 26 minuti Regà 26 minuti di registrazione Che avranno tipo 10 minuti In 26 minuti Ho fatto 63 iscritti Allora regà Lasciate like E se non lasciate like Ecco Sfondatelo oggi Cioè dovete Non deve esistere E' un giorno giuglorioso Questo E' il giorno giuglorioso Mamma mia Vai Balla la strampadanza La strampadanza La strambodanza No come era La strampadanza Strampaladanza Strampadanza è una mossa di pokemon In realtà No quella è stram E' una mossa di pokemon Strampadanza Va bene Me la racconterò Quando giocherò a pokemon Sole Ok E io l'uno Oh Mi ha voluto Mi metto un'idea Facciamo un gameplay Si con quale Si vabbè Con No vabbè In teoria si potrebbe anche fare Ma viene un pochino Si vabbè Io vado dagli ore Scusami Come facciamo a registrare il 3ds Eh Ci sono i cosi Che tipo costano un sacco di soldi Che costano 2.000 euro Allora Facciamo così regà Se ci regalate Un 400 euro Di Oh 32 coin precisi 400 Costano 2.000 euro No no Costano 400 Ho visto No Ho rotto l'hopper Idiota L'hai preso No E' caduto Oh Devi farti 5 cose Devi farti 5 coin Ma non abbiamo fatto niente Shhh Abbiamo vetto i commenti del giorno I commenti del giorno Si vabbè Che sono Posso fare una battuta? Si Gli alberi crescono come i tuoi iscritti Eeeh No 65 No vabbè Vabbè Ma dai ma basta Iscrivetevi anche un po' Al mio canale Non sono al suo Oh Allora Cutie è gasata Voglio 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 Guarda Vado Vado Tantissimo avanti Voglio 20 like Cioè Come minimo Perché è gasata Cutie Ce la potete fare Io credo in voi So che è un traguardo difficile Da raggiungere Ma si può arrivare Aspetta Allora Io ho quasi fatto La cosa No ho visto che abbiamo tutto l'hopper Sta cadendo tutta l'acqua di nuovo Sotto la lava Aspetta questa qui è plain vero? Non ho pensato al bioma vero Non ci credo Tu sei stupidissimo Siamo nel deserto Siamo nel deserto? Siamo nel bioma deserto Perché? Cosa? No siamo nel deserto Cosa? Cosa? Che è successo? Ah! 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 Mi ha messo un po' Ah! Scusate Voi non volete il mio schermo È È stato gun È stato gun È tutta colpa di gun No! Andiamo Andiamo Cosa? In che senso È il recinto Non ho le fence Sono Perché io tengo ancora acceso l'f3? Vabbè Allora Aspetta Ma quindi siamo nel deserto? Non spawnerà mai una mucca nel deserto? No Forse spawn Forse i conigli possono spawnare nel deserto Oddio Ma come che facciamo a spawn? Fatti spawnare allora Non c'è un nuovo di spawn vero? Si possono comprare No Non si possono comprare Aspetta Faccio il recinto? Faccio il cancello Vabbè ormai Sì sì No faccio il cancello Ok va bene Va bene Tanto dovrebbero spawnare un giorno Un giorno molto lontano Dovrebbero Spawnare Ecco si è riscritto Spawnano come i miei iscritti Pudans Hai presente là? Secondo me te lo sei bevuto veramente quel tè che avevo messo la marijuana dentro? Te lo sei bevuto? Eh sì Perché volevo bere per dimenticare Però Dimenticare che cosa? La battuta Aspetta Aspetta Pensa bene alla battuta Te la puoi fare Io credo Per dimenticare Per dimenticare Dai cutie Dai Li sto zoomando sopra Dai che ce la puoi fare cutie Dai Dai Com'è l'outro Mi sono dimenticato l'outro Mi sono dimenticato l'outro Vabbè fate finta che questo video sia finito Ok? Bene Bella Ciao Dieta la zombie Chiudi 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 la zombie È caduta È caduta È caduta È caduta Non è caduta Non è caduta mai 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 Sono caduta io Addio 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 zombie Muori ci muori ci muori ci muori ci Sì Sì No, no, c'è la porta aperta. Ah, sì, scusa. Ma no, ma l'ho chiusa, eh. Qual è che l'ho chiusa? Sì, vabbè, è un blocco che vuoi che esca. Ammene i zombie, dai.